Livorno Forlì 3 a 0 per gli Amaranto in questa prima di Coppa Italia, due reti firmate Cristiano Lucarelli, Mister Miliardo come lo chiamano i concittadini e una Morrone neoacquisto ex Palermo. Prove tecniche nei primi dieci minuti di gioco per Palladino che trova la traversa e per Galante che trova il portiere di Leo. Ancora una manciata di minuti al quindicesimo dopo l'atterraggio di Colucci arriva il primo gol della stagione per il bomber Amaranto su punizione 1 a 0. Si riparte ed il Livorno insiste ancora Palladino. Il Forlì è volenteroso ma dopo 5 minuti Lucarelli raddoppia questa volta sul rigore. Un paio di ammunizioni una per parte poi ancora lui Lucarelli che trova pronto di Leo. La sua porta è sotto assedio. Tutti negli spogliatoi quando si torna in campo solo qualche tentativo è andato a vuoto prima di arrivare al 35esimo. Tira Balleri e Morrone che intercette e va a segno. 3 a 0. Un buon esordio per il Livorno.